Benvenuto Enrico Brizzi. Ciao Alessandro, grazie. Devo subito giustificare questa cosa del primo libro che ho iniziato a leggere. Forse una volta l'ho anche già raccontato. Io ho cominciato a leggere tutto sommato tardi. Io sono arrivato a Milano intorno ai vent'anni. Prima stavo in provincia, mi interessava solo giocare a pallone, avevo il mio cerchio ristretto di amici. Arrivato a Milano, uscivo con gente nuova che parlava di musica e ci stavo dentro, parlava di film e ci stavo dentro, parlavano di libri e io ero completamente tagliato fuori. Quindi ho iniziato a leggere per vergogna. Adesso sono un solido lettore, devo dire la verità, però ho iniziato un po' per vergogna. Jack Frusciate, ciò nonostante, era un libro che avevo preso. Per dirti l'impatto che aveva su quel tipo di generazione, avevo iniziato a leggere. Poi probabilmente mi ero un po' perso via, l'ho recuperato poi in più tarda età. E adesso è arrivato questo seguito? Sì, è successo tutto in maniera abbastanza strana, ma anche naturale. Io, Jack Frusciate, uscito dal gruppo, l'ho pubblicato nell'estate del 94, ma l'ho letto per la prima volta a novembre scorso. Mi è capitato ovviamente di leggerne dei brani, presentazioni pubbliche, reading, spettacoli, ma l'ho letto per la prima volta, dalla prima all'ultima pagina come fosse il libro di qualcun altro. Di qualcun altro, sì. L'autunno passato e quello che è successo è stato che chiusa la quarta di copertina ho aperto il computer e mi sono messo a scrivere in maniera per me molto naturale e terrorizzante, come secondo me andava avanti la storia. Non mi era passato per la testa per 29 anni e subito mi sono reso conto che stavo facendo la cosa più pericolosa e tenera forse, ma pericolosa di sicuro della mia vita, cioè altro che le mattane dei vent'anni, rave, concerti estremi o trasferte calcistiche. Cioè andavo a toccare qualcosa che per mezza vita la gente mi ha detto che era stato importante per lui, per lei, per quell'altro. E niente, all'inizio mi vergognavo, non l'ho detto neanche ai miei agenti o al mio editore, l'ho detto soltanto a Sara, alla donna che amo, alle mie figlie e ci è voluto un po' per fare outing. Infatti la prima domanda sarebbe stata perché adesso e quindi il perché adesso è presto svelato, perché è stato il momento. Qual è stata la difficoltà però, a distanza di 30 anni, di riprendere? Due mi è arrivato da qualche giorno, sono a buon punto. La prima cosa che colpisce è proprio quello stile, quel linguaggio che insomma faceva parte anche del primo libro. Essendo tu cresciuto, essendo il mondo cambiato, quali sono state le difficoltà di rientrare un po' in quella macchina del tempo e ritornare più o meno a quegli anni? Sai, la cosa forse ovvia è che a 20 anni non puoi immaginarti com'è averne 50, ma a 50 anni sei un po' di memoria, ti ricordi molto bene com'era averne 20. Ma hai avuto il rischio, un po' come, non so, il ritorno al futuro quando va a prendere l'almanacco sapendo già i risultati delle partite, hai avuto il rischio di scrivere qualcosa un po' con il trucco di sapere poi già come sarebbe andata a finire nel mondo vero? No, apprezzo molto la citazione perché è una delle mie saghe preferite. La verità è che il paragone che mi viene naturale è come un chitarrista che ha una carriera alle spalle ormai abbastanza lunga e a un certo punto decide di tirare fuori la sua prima chitarra delle tante che ha e quella chitarra ha quel suono lì. Per cui è stato tutto molto naturale e poco razionale. Se mi chiedi quali sono le motivazioni faccio fatica, se mi chiedi come mi sono sentito è facile rispondere. Mi sono sentito dentro un flusso che era da 30 anni che non mi visitava e che mi ha accolto in maniera molto naturale. Ci hai messo molto a scriverlo? Beh no, per i termini editoriali si è iniziato a scrivere a novembre, a primavera mi sono rinchiuso in una locanda dell'Appennino Tosca Emiliano con il mio editor. Abbiamo fatto cinque giorni di rilettura dall'inizio alla fine e l'editing si è concluso a luglio per cui no, in realtà è un'operazione abbastanza rapida. Che tipo di autore sei con gli editor? Gli lasci spazio o sai che c'è quel ruolo, fai finta di sopportarlo ma poi comunque sia se ti taglia un pezzo ti gira nei coglioni e allora dici no, questo è un ruolo. È vero tutto quello che hai detto, quindi arrivando al giro dopo cerco semplicemente di lavorare con editor di cui mi chiedo per cui il rapporto deve essere un po' come andare in tour con una band, ti devi trovare bene. E capisco anche molto un po' quel terrore che raccontavi un po' all'inizio di rimettere mano a questa cosa, capisco anche che tu magari inizialmente non l'abbia voluto dire subito a tutti. Quando poi gliel'hai detto, terrorizzati anche loro o si sono sfregati le mani, tutta la parte corporate diciamo? È stata abbastanza impagabile vedere la carrellata dei volti a bocca aperta in riunione editoriale. Perché gliel'hai portato poi già praticamente fatto quindi? Beh dicendo sono a buon punto, ho superato il punto per cui non tornerò indietro e poi è stato bello dare l'annuncio pubblicamente e iniziare a ricevere domande dai lettori e la domanda più frequente è stata ma non mi dire che ora Alex e Heidi i protagonisti della storia hanno 50 anni e la risposta è no, sono tardo adolescenti per natura quindi di anni ne hanno esattamente 18. Jack Frusciante finisce con Alex che saluta Heidi che deve andare via un anno in America e lui se ne va, scende verso Bologna in bicicletta con gli occhi un pochino lustri per effetto dell'enorme velocità e forse anche un dispiacere sentimentale nel cuore. Finisce dicendo perché è il vecchio Alex quando fila così come il vento e la storia nuova riparte. Ascoltate gente, lasciatevi invadere dalla musica che la nostra canzone suona ancora per noi e per tutti. Nel tardo giugno dell'anno Domini 1992 il vecchio Alex non filava più come il vento perché giace in ruina disperato che lei è appena partita quindi riprende immediatamente dopo. Allora c'è qualcuno che ti sta facendo tantissimi complimenti anche per la voce dicendo Enrico non invecchia mai alla voce ancora nel tempo che rapporto hai col tempo che passa? Io per esempio sono in mezzo a una strada da questo punto di vista cioè inizio a sentire proprio il peso anche un po' la paura per certi versi anche un po' il godimento del tempo che passa. Tu che rapporto hai con... Il godimento c'è quando ti rendi conto che sai scegliere un vino o un whisky, ti sentifico, però credo che la terapia omeopatica mia sia stata avere quattro figlie per cui quando ti confronti con chi vent'anni lì a oggi o dodici anni lì a oggi come mia figlia più giovane non pensi tanto al tempo che passa per te perché sei sempre on the run. Potrebbero essere le protagoniste del tuo libro visto che hanno vent'anni oggi rispetto ad Alex e Heidi? Quello che ti posso dire sicuramente è che Chloe mia figlia più grande mi ha aiutato con l'editing, è stato importante anche confrontarsi con la sensibilità di chi ha vent'anni oggi ed è una ragazza. E com'è andata? Ah è stato bello, è bello far fare apprendistato a una persona a cui vuoi bene. Ha lavorato un po', ha lavorato un po' di fatto, ha lavorato. Ci scrive Davide dicendo anche per me è stato il primo libro che ho letto e da lì mi è partita poi un trip per tutti i libri di De Carlo visto che parlava di due di due eccetera eccetera. È un po' la domanda che ti ha fatto anche Walter durante questa canzone, cioè De Carlo ti ha mai ringraziato per tutti i libri che gli avrai fatto vendere in più oltre a quelli che già vendeva di suo? Come dici giustamente Alessandro De Carlo già non aveva bisogno di me per vendere libri però è stato bello conoscerlo e sì sentirlo da una parte ringraziarmi e dall'altra levarmi io da suo lettore delle curiosità. Io per esempio ho la certezza che i suoi primi due libri Treno di pannuccele da gabbia da voliera per la prosa, per il ritmo fossero stati scritti prima in inglese poi tradotti in italiano. Lui mi ha confermato che in effetti alcune frasi, alcuni passaggi viveva in paesi anglofoni, sono nati proprio così. Insomma è bello anche sapere qual è la cassetta degli attrezzi degli scrittori o dei musicisti che ammiri. Lo vedi abitualmente? È entrato nella tua cerchia di... No, abitualmente no, ma ci incontriamo periodicamente a eventi di questo mondo editoriale. Di questo mondo editoriale. Io ci sono entrato da poco in questo mondo editoriale, me lo immaginavo tutto sommato più snob. Allora c'è una parte di autocompiacimento, però devo dire tutto sommato è la cosa che più mi ricorda MTV di quando ci lavoravo. Cioè mi sembra un mondo dove ancora c'è la capacità, pur prendendosi anche un po' sul serio, di divertirsi. Sicuramente sì e poi c'è un altro, secondo me, paragone azzecchiato tra il mondo editoriale e quello musicale. È molto diverso l'ambiente delle indie, delle etichette indipendenti e quello delle major. Jack Frusciante è uscito dal gruppo, uscì per Trans Europa che era una piccola casa editrice considerata di qualità ma di nicchia in 200 copie. Anzi, è mancato proprio la settimana scorsa Massimo Canalini che è stato il primo editore di Trans Europa. Era uno che ti riceveva nel suo studio con l'ingrandimento di un articolo di giornale dedicato a lui con scritto Il più grande talent scout d'Italia. Per cui da una parte è stato molto bello andarlo a trovare, fare in tempo andarla a trovare prima che se ne andasse in maniera improvvisa. Dall'altra parte sento anche il peso di dover portare avanti, oggi io mi sento uno dell'old school, era bello quell'artigianato che c'era all'epoca per cui facevi notte in casa editrice a leggere, a provare e se questa frase la mettessimo al passato o in terza persona invece che in prima? Hai detto bene artigianato, è vero perché anche io ho la sensazione, avendo iniziato a fare questo lavoro una ventina di anni fa abbondanti rispetto a oggi, tutto sommato più o meno è rimasto lo stesso ma mi sembrava che prima ci si potesse lavorare di più veramente alle cose C'era più possibilità di metterci mano Non c'era tutto questo ma sono contento del rapporto con Harper Collins, il mio editore che pubblica due in questi giorni perché i patti iniziali sono stati chiari questa storia è anni 90, la sua ispirazione arriva dagli anni 90, ci lavoriamo come negli anni 90 per cui niente editing a distanza o telefonico Se andiamo a chiudere io e Charles, il numero uno della narrativa, in una locanda dell'Appennino Tosca Emiliano dove so che fanno da mangiare bene, non c'è rete, siamo stati lì 5 giorni e 5 notti al lavoro come si faceva una volta Bello, bello, bello 12.37, bentornati su Radio DJ, c'è Enrico Brizzi qui con noi, qualche giorno fa è uscito 2 il suo nuovo libro che è il seguito di Jack Frusciante, è uscito dal gruppo Long Seller Quanti rivendi ancora adesso dopo 30 anni? Cosa ti arrivano? Ogni tanto ti arrivano i resoconti all'anno, alla settimana, al mese? Ogni quanto arrivano? Tipicamente nell'editoria arrivano due volte all'anno, ma per fortuna il mio agente Marx è molto bravo e se ne occupa lui Fa tutto lui, fa tutto lui, ogni tanto vedi i soldini che tornano lì, ma ci sta Dicevo, Long Seller ma soprattutto libro che ha cambiato la vita a un sacco di persone Stanno arrivando messaggi tipo, 41 anni in questo momento sono chiuso in macchina parcheggiata ad ascoltare l'intervista a Enrico Perché è stato uno dei libri che ha cambiato la mia vita eccetera eccetera Che rapporto hai tu con l'espressione libro che ha cambiato la vita? Sai è molto impressionante quando senti persone che ti dicono Grazie a Jack Frusciante mi sono levato una specie di benda davanti agli occhi, è iniziata mia vera libertà Da ragazzo o da ragazza, così come è impressionante sentire persone che ti ringraziano Perché leggendo quel libro hanno scoperto dei gruppi, dei film, degli scrittori E la cosa più impressionante di tutte però, cosa che sta capitando abbastanza spesso nelle serate che sto facendo in questo periodo È quando arriva una persona sui 45 anni con un ragazzo o una ragazza sotto braccio e dice È mio figlio, l'ho chiamato Alex, è mia figlia, l'ho chiamata Adelaide E lì senti un po' di responsabilità Un po' di peso della responsabilità Ci hai raccontato prima come ti è venuta molto naturalmente l'idea di dare seguito a Jack Frusciante Quando l'hai scritto avevi 19 anni, quando hai iniziato forse ancora qualcosina in meno, 18 Ti ricordi lì la scintilla quale è stata? Cioè cosa ti ha fatto pensare? Adesso scrivo una storia, scrivo un libro, scrivo la storia di questi due ragazzi Immagino che a quell'età, avendo poca esperienza di vita, si vada ad attingere a tutto quello che hai immagazzinato nella tua, no? La verità Alessandro è che ho cominciato scrivendo una storia tutta diversa Che era un plagio di Blade Runner E la prima cosa che ho presentato agli editori era qualcosa che non aveva nulla a che fare con la mia vita E fu molto importante l'incontro proprio con Massimo Canalini di TransEuropa Che tirò fuori dal taschino dell'impermeabile un foglio ripiegato in quattro Che aprì e disse questi sono i consigli di Pier Vittorio Tondelli per i giovani scrittori E c'era scritto raccontate delle storie che conoscete, raccontate del vostro mondo Io ho capito che avevo sbagliato tutto fino a quel momento È effettivamente un po' lontano da Bologna nel 90, sì La mia storia di vita è la storia di vita di tanti altri Suono molto male il basso in una band, vado al liceo poco volentieri Sono innamorato di una ragazza che non sa se vuole mettersi con me o no Perché l'anno prossimo dovrà partire e stare via un anno E a me sembrava la quintessenza della banalità Invece vedevo lui che montava e montava e fa È di questo che devi scrivere Quindi è stata di fatto una specie di rivoluzione copernicana Indotta da chi la sapeva più lunga di me E mi ha spiegato, cosa che oggi può sembrare ovvia Ma per me all'epoca non lo era Non ti devi immaginare un mondo mitico O la fantascienza o far finta di vivere a Manhattan Racconta di quello che conosci Perché è di quel mondo che conosci le temperature Il gergo, il ritmo, tutto quanto Dal punto di vista della scrittura Eri un enfant prodige certificato anche dalla tua professoressa di italiano O c'era quel sempre ricorrente scontro Per cui il grande scrittore viene trattato come un asino a scuola Invece poi diventa un grande scrittore La seconda che hai detto Cioè a temi Da una parte avevo delle soddisfazioni Perché quando ho cominciato a partecipare ai vari concorsi In giro per l'Italia o indetti da riviste Andavo sempre bene Però il mio voto fisso per i temi in classe era Sei meno, ben scritto ma sei andato fuori tema Ah sì, il grande classe Ma perché facevi quelli aperti? Certo, cosa vuoi? Ti vedi a fare quello su Italo Svevo Esatto, perché lì dovevi aver studiato Per fare quello su Italo Svevo dovevi sapere di cosa parlavi Invece quelli aperti ci mettevi Te la cavi in qualche modo In tanti stanno scrivendo Se, mi immagino che non sia realmente una domanda per te Però a me per esempio chiedono come chiamare Il piano tariffario del telefono Vedendomi nella pubblicità della Vodafone Quindi capisco che facciano questa traslazione Se ci sarà un sequela anche del film Non lo so Non lo sai Stiamo ricevendo delle proposte Ma è prematuro nel senso Lo valuteranno gli agenti e l'editore Nelle prossime settimane Come ci sei rimasto quando è stato fatto il film? Che gioco forza Secondo me non rispetta Non può, forse manco deve Troppo rispettare esattamente il libro Però essendo la creatura tua Immagino che tu sia stato anche molto geloso Credo di quello che hai fatto O hai lasciato che quella Hai riconosciuto che era un'altra nave Che doveva fare il suo percorso Rispetto proprio alla storia Come è stato trattato? A vent'anni non ero così saggio Ero più dell'idea Facciamo un film che sia strafico Il produttore che aveva comprato i diritti Aveva un'idea estetica di un film alla Clerks Un film in bianco e nero Sperimentale, camera a spalla Ti piaceva quel tipo di indirizzo? Quella mi esaltava Mi esaltava soprattutto l'idea Di poter scegliere dei pezzi Per fare la colonna sonora E poi suona in tutto il cinema E la colonna sonora infatti È molto buona secondo me Poi banalmente il primo produttore Vendetti diritti è un secondo produttore Quindi è per forza di cose un po' un Frankenstein Si perde il controllo Però la cosa bella Ne parlavo di recente O meglio ce lo scrivevamo di recente Proprio con Violante Placido E riguardando indietro a quell'esperienza Avevamo tutti 20 anni 21, 22 anni E ci frequentavamo anche fuori dal set Mi ricordo lei Stefano Accorsi Alessandro Zamattio Che interpretava Martino Cioè alla mia festa di compleanno Dei 21 anni La classica cantina bolognese Con i miei amici È stata È stato importante per me Che in quel momento ritenevo La scrittura a sorpresa La cosa più importante della mia vita Vedere che per qualcun altro Valeva la stessa cosa Per magari la recitazione O Sai un film si fa in tante persone Quindi conosci anche Chi sta dietro alla colonna sonora Chi sta dietro alla fotografia Al montaggio È bello essere in mezzo a gente Che ci sente di brutto Per quello che fa Stavo pensando a questa festa di compleanno A cui hanno partecipato Violante Placido e Stefano Accorsi Dicevo Cazzo che figata Nella mia c'era il mio amico Deri E' vero che poi era uno Stefano Accorsi All'inizio Quindi magari non aveva ancora Era già molto bravo La popolarità di adesso Però Quando è uscito Hai avuto un po' di Sfasamenti Da Vita da star Rispetto a quella di qualche mese prima Dove eri uno studente Che cercava di Di scrivere la sua storia Beh sai Succedono cose sorprendenti Del tipo Vai a scuola per anni Con la La Vespetta Con l'adesivo Di Vasco Attaccato sullo scudo E poi Vasco Ti vuole conoscere E lo porti al tuo pub E lui scrive un articolo Su di te Come hai saputo Che ti voleva conoscere Ti ha chiamato Come funzionava la comunicazione L'ho imparato Dall'ufficio stampa Dalla casa editrice Ce l'hanno detto Sì sì E ti lascio immaginare La fascia dei miei amici baristi Quando entri al pub Da venti coperti Con Vasco E niente Questo è Vasco Vasco questi sono Lo conoscete? Sì Bello Bello Allora mettiamo Un'altra canzone Poi andiamo a chiudere Questa canzone In realtà Ha più a che fare Col mio rapporto Col tuo libro Perché Come ti dicevo prima Io l'ho letto Però L'ho avuto in mano Due anni dopo L'uscita Era già il 1996 Perché a Tortona Le cose comunque Arrivano dopo Arriva tutto un po' dopo Il Barbour È arrivato quest'anno A Tortona Nessuno lo aveva mai avuto E quella era l'estate In cui Jack Frusciante Da una parte Ed era uscito questo Disco secondo me Bellissimo Di Gianluca Grignani Che è la fabbrica di plastica Leggevo gli ascoltatori Sempre per tornare Sull'argomento Libro che mi ha cambiato la vita Tanti sono andati a Bologna Per quel libro Sono andati a studiare a Bologna Per quel libro Insomma La città Ma non ti hanno dato le chiavi Della città Non ti hanno dato No però Mi hanno dato un premio Intitolato a Lucio Dalla Per la musicalità Della mia prosa E per me È più fico questo Delle chiavi della città Tanto avevo già Essendo la mia famiglia 500 anni Sai dove andare È uscito da qualche giorno Due Che Diciamo prima Il sequel Di Jack Frusciante Quindi Una grandissima personalità Che riporta Agli anni 90 È stato ovviamente un caso Ma mai come in questo momento È il momento giusto Per ritornare agli anni 90 Visto che sono riuniti gli Oasis Cioè hanno dato una botta Io mi sono anche un po' stupito Perché Pensavo che interessasse a me Al mio circolo di amici Cioè Sapevo che era una cosa grossa Ma mi ha stupito Questo Questo ritorno Così impattante Degli anni 90 Ce li hai i biglietti? No non ce li ho Sto cercando in compenso Dei biglietti Per Anfield Per Liverpool Bologna Se qualcuno Beh questo si può trovare Sì sì Non ce li hai Perché non te ne frega niente O non ce li hai E ti piacerebbe andare A vedere la reunion Degli Oasis Non ce l'ho E mi piacerebbe Andarla a vedere Sì se mi dicessero Guarda ecco i biglietti qua Farei Sì Ai tempi ti interessavano Perché in realtà Siete usciti un po' insieme Però anche loro Hanno avuto un impatto Molto veloce Quelle dicotomie Che viste poi col tempo Che passa Sembrano sciocchezze Però io Ero della parrocchia Dei blur Di quanto? Io ho una maglietta Di cui sono molto fiero Che dice 55% blur 45 Oasis Bella Questa è una maglietta Da avere In che percentuale Eri spostato? 70 Damon Albarn E compagnia 30 Oasis Mi sono sempre sembrati Più creativi Sì Quello sicuramente Sì No no Quello sicuramente Gli Oasis Forse più Più spocchia Quella spocchia Bella Che ti trascina Con la personalità Lì Nel senso ecco Con gli Oasis Ci vai più volentieri Al pub o allo stadio Con Con i blur Probabilmente in studio Se fossero italiani Di dove sarebbero gli Oasis? Tortona Di Tortona Più Napoli Torino forse Sarebbero di Torino Una bella di Torino Forse Genova Sai quelle città Con una forte cultura musicale O di Bologna O di Bologna Perché no Perché no Allora Qualcuno ci scriveva Anche per me Enrico E' importante in quanto Trekker Perché tu sei un gran camminatore Sì Diciamo che lavorando seduto Come la maggior parte delle persone Nel tempo libero Mi piace stare in piedi E possibilmente portare a spasso Lo zaino per lunghi tragitti Dall'Alto Adige alla Sicilia Da Torino a Santiago Da Da un mare all'altro d'Italia Poi la maggior parte delle uscite Sono molto più tranquille Sono un weekend Però quando riesco a regalarmi Cioè il mio viaggio ideale E' camminare tre mesi Io e Walter Approprio di Tortona L'anno scorso A un certo punto Avevamo guardato su internet La distanza Su Google Maps Tra Via Massena 2 Radio DJ E Tortona Casa Mia Perché dicevamo Riusciremo Finita la puntata Mangiamo una roba al volo Andiamo in tempo Per l'aperitivo a Tortona Abbiamo scoperto Che ci vogliono 18 ore Sì Guarda Te lo posso assicurare Perché l'ho fatto anch'io Di partire da Milano Sì E arrivare a San Fruttuoso Sul Mar Ligure Sì Per Tortona Servono due giorni E poi ne restano quattro Per arrivare a buttarsi in acqua Sì Quindi è un aperitivo sudatissimo Un aperitivo del post domani Del dopo domani Enrico Grazie mille Allora farei un sacco di presentazioni Guarda Io qua ho le date Dal 22 settembre A metà di ottobre Passi da Pordenone Bologna Carmagnola Torino Rovereto Reggio Emilia Milano Roma E lo farà tutto a piedi Vediamo Questo vediamo Lo fa tutto a piedi Quindi un po' come Forrest Gump Se lo trovate per la strada Potete seguirlo E arrivate tutti in gruppo Alla fine All'ultima presentazione Nel caso offritemi un chinotto Se non sono ancora alle 18 E una birra più tardi Vedi il chinotto Tu gli dice A te fa schifo il chinotto È la bibita del signore Il chinotto Vero? Signorile Signorile Allora 2 è uscito il 17 settembre Quindi lo trovate in tutte le librerie Grazie mille Enrico Per essere stato con noi Grazie a te Alessandro Abbiamo anche già finito Mauri? Grazie a te Alessandro